Ciclo Arturiano, Ciclo Bretone Le avventure di Re Artù sono raccolte nel cosiddetto Ciclo Arturiano. Per Ciclo Arturiano detto anche Bretone. Perché abbientano in Britannia l'antico nome dell'Inghilterra. Si intende il materiale letterario dedicato alla figura di Artù. Questa letteratura nacque in Francia nel XII secolo. Le vicende di Artù, Ginevra, Gomerlino e dei Cavalieri della Tavola Rotonda furono narrati in numerose lingue. Il primo a parlare di Artù e dei suoi compagni nel 1135 fu un cherebio gallese chiamato Goffredo di Montfut. Lì i racconti narrano le avventure calvallevesche, i duelli e gli amori dei protagonisti. Tra le storie più celebri si ricordano le leggende su Merlino e la spada Excalibur, l'origine del regno di Artù, l'amore per la regina Ginevra e le avventure dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Questi temi furono in seguito ripresi e trattati da molti autori, tra i quali il francese Chrétien de Troiand, uno dei più grandi scrittori medievali. Qualche secolo dopo, Ludovico è piosto per il ciclo bretone e il ciclo carilingo, cioè quello dedicato ai palladini di Francia, nel famoso romanzo Cavallevesche intitolato Orlando Fuvioso. Fine ultima parte Fine soutgang지ante Fine Fine